...Gascala alla radio per i suoi colloqui con i cittadini. Amici miei, voglio dirvi quello che è stato fatto negli ultimi giorni, perché è stato fatto e quali saranno i prossimi provvedimenti. La chiusura delle banche, mentre in molti casi ha rappresentato un inconveniente grave, ha dato a noi la possibilità di fornire la valuta necessaria per far fronte alla situazione. Innanzitutto sia chiaro che le banche risponderanno ad ogni esigenza. E io sono convinto che il tesaurizzare, come durante i mesi passati, sia diventato un passatempo straordinariamente fuori moda.